Dagli inizi di giugno, Adriana Lima frequenta lo scrittore turco Metinara. Sebbene la loro relazione duri da pochissimo, la splendida modella è perdutamente innamorata. Non sorprende, dunque, che in queste ore si sia scagliata contro il gossip. A farle imbestialire, un magazine turco che ha insinuato che lei tradisse il fidanzato con un altro uomo. La 36enne, allora, è intervenuta su Instagram per chiarire le cose. Oggi intendo usare Instagram come una pietaforma per stabilire la verità. Quindi ha spiegato di essere a conoscenza del pettegolezzo sul suo conto. Non capisco chiaramente la lingua turca, ma ho sentito dire che un pettegolezzo che sta circolando su di me è la mia fedeltà al mio amore Metin, e sì ho detto il mio amore. Adriana Lima ha chiarito l'identità dell'uomo con il quale ritratta nella foto. Per vostra conoscenza, l'uomo accanto a me è il mio amico Gai Miltia di Scastanis. Sì ho detto amico Gai è parte della mia famiglia. La ragione per cui mi sono innamorata della Turchia è il grande amore che ho avvertito da questa terra e dalla sua gente. Perciò chiedo di rispettare la vita privata mia e di Metin e di smetterla gentilmente e di creare fucking news. È una cosa che sta andando avanti dal primo minuto in cui io e Metin abbiamo iniziato a uscire insieme. Vi chiedo di accettare il fatto che io e lui stiamo felicemente insieme e siamo innamorati. Il mio amore per la Turchia non è cambiato. Vi ringrazio per la comprensione. Vi amo tutti con il cuore e non vedo l'ora di tornare. A giugno del 2008, Adriana Lima ha annunciato il fidanzamento con Marco Ierich, ex star dell'NBA, che ha sposato l'anno successivo. Da lui ha avuto due figlie. Valentina, nata il 15 novembre 2009, e Sienna, nata il 12 settembre 2012. Nel 2014 la coppia ha annunciato la separazione. Il divorzio è arrivato a marzo del 2016. A giugno dello stesso anno, Adriana Lima ha iniziato a frequentare Metinara. Chi se ne frega.